come mai a piedi e mi davano noia sì ma non avevi l'aria così dispiaciuta guarda che a me di quelli non me ne frega proprio niente senti sabella tu non sei più una ragazzina e infatti senti allora me lo dice adesso quello che non mi hai voluto dire per telefono mi imbarco come ti imbarchi mi imbarco c'è una nave che paga bene parto dopo domani ma tu mi sembri in buona compagnia no come dopo domani stiamo insieme questa sera no non posso perché c'è il compleanno di annabella se l'ospite d'onore quella non aspetta altro può darsi ma io voglio stare con te sì e e beh io non posso sei uno stronzo dai non andate non fai così guarda lish Tocca in culo! Oh... Oh, come... Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on.